Oggi è una giornata particolare perché mi trovo accanto ad un grande chirurgo che è il professor Cerulli che ho la fortuna di conoscere e del quale ho la fortuna di essere amico. Giuliano Cerulli ha tra tutte le sue attività creato questa Ollus dentro la quale siamo che è dedicata a Nicola, infatti si chiama Nicolas Foundation perché ha dei fini scientifici importanti e soprattutto unici. Quali sono, Giuliano? Innanzitutto grazie per essere venuto qui stamattina a vedere la nostra fondazione. Una fondazione che ha un valore affettivo, per ricordare Nicola, mio figlio. I fini scientifici sono quelli di fare in modo che i giovani e anche i medici meno giovani imparino a fare la loro attività, soprattutto chirurgica, attraverso un'esercitazione sul cadavere. Primo caso in Italia questo? Sì, è la prima struttura in Italia ed è un piacere averla qui in Arezzo, averla in Toscana, anche perché la Toscana è stata una delle regioni che storicamente ha contribuito molto a che in Italia diventasse la culla dello studio dell'anatomia. La storia è nota. Leonardo già faceva, sezionava i cadaveri per le muscolature, quindi... L'altro Leonardo. Sì, non io, quello un po' più importante di me. E quindi qui vengono da tutto il mondo. Sì, è vero, vengono sicuramente dall'Italia, da altri paesi europei ed extraeuropei. Ed è un'attività che rientra fra i principi di una fondazione perché è un'attività che svolge solidarietà scientifica. Noi vogliamo fare in modo che questi corsi di preparazione e di conoscenza dell'anatomia umana, di come si fanno le tecniche chirurgiche che riguardano non solo il mio settore, la mia branca ortopedica traumatologica, ma anche altre specialità chirurgiche e mediche, siano dei corsi frequentati da giovani medici o da chirurghi che vengono anche dal paese del terzo mondo, per esempio dal bacino del Mediterraneo, dall'Europa dell'Est. E questo significa fare solidarietà scientifica e formativa. È una cosa molto bella ed è uno degli obiettivi che la fondazione persegue e speriamo di poterli raggiungere sempre di più. Tua figlia mi spiegava che pur essendo una Ollus e avendo attivato i vari canali ai quali ogni Ollus competono, non avete ancora i contributi statali per servire a incentivare ancora più persone a venire? I costi sono alti per il lavoro che fate, mi immagino. Sicuramente sì. Noi puntiamo a fare un'attività che sia di qualità e di sostanza, nel senso che a noi piace, come sempre a tutti quanti ritengo, fare qualcosa che sia veramente unica nel settore. Io sono partito sempre dal concetto dell'idea di fare prima di richiedere. E quindi una volta che noi facciamo e dimostriamo che siamo una fondazione che veramente opera nel bene, in maniera etica, in maniera scientifica, in maniera legale, successivamente io penso che si possa sensibilizzare le istituzioni. Io faccio questo e non mi puoi non aiutare. Praticamente è il principio che non tutti applicano, perché molte nascono solo per prendere i contributi e poi spariscono. Tu hai fatto la strada contraria. Sì, la strada contraria perché poi penso che la sensibilità delle istituzioni, e qui sicuramente è una sensibilità notoriamente molto elevata, le istituzioni comunali, provinciali, regionali e anche nazionali, sia tale da far capire, da capire che noi siamo diventati un fiore all'occhiello. Aggiungo un particolare che è importante, che questo è diventato il centro più grande al mondo per quanto riguarda la sua capacità di ospitare contestualmente un numero enorme di discenti. Quante persone ciclicamente ogni mese, per esempio, passano di qui? Quanto dura intanto? I corsi durano almeno un giorno e mezzo, hanno una durata media di due giorni. Oltre all'attività dei corsi di formazione, si svolgono anche delle ricerche, che vengono condotte alcune da noi e dal nostro gruppo, di ricercatori, da giovani che lavorano con me, non solo ortopedici, ma anche in altri settori delle scienze affini, i bioingegneri, i biomeccanici, i biologi, i morfologi. E altri vengono a fare le ricerche, quindi non solo nel mio gruppo, ma anche di altri gruppi. Per esempio, di recente, c'è stato un gruppo di colleghi ortopedici che sono venuti dall'Israele per fare una ricerca. Le ricerche sono completamente confidenziali, quindi ognuno la svolge secondo le indicazioni proprie, i risultati sono loro, sono propri e non sono della fondazione, ovviamente. Quindi questo è l'altro aspetto, formazione e ricerca. Mediamente, la struttura è frequentata da 1400-1500 persone all'anno, fra docenti e discenti. Questi vengono dall'Italia, ma anche da altri paesi. Si trova questa struttura ad Arezzo, in via Einstein, che è la zona pratace. Io ringrazio il dottore e ovviamente noi da questo momento saremo legati alle sue iniziative. Non vi anticipo nulla, ma personaggi nazionali faranno qualcosa per diffondere ancora meglio la conoscenza di questo centro anche di ricerca. Perché insomma in Italia ci si dà da fare anche da privati. Ma io penso che sia giusto così, perché ci deve essere sempre un giusto connubio tra pubblico e privato, perché poi tutti e due insieme, sia il pubblico che il privato, possono adoperarsi per il bene della nostra nazione, che ha delle potenzialità, e non sta a me dirlo e scoprirlo, enorme che noi dobbiamo sfruttare. Tra l'altro, con questa struttura, sia per quanto riguarda la didattica, ma soprattutto la ricerca, un altro obiettivo che la fondazione vuole raggiungere è quello di cercare di mantenere i cervelli dentro l'Italia e di evitare la fuga. Si parla tanto della fuga dei cervelli. Io mi auguro che queste sinergie tra privato e Stato servano a non far andare via gente che poi ci serve. Grazie. Grazie, grazie a te. Grazie.